non so se lo vedete bene amici ma qui si può fare le grigliate come potete vedere c'è un forno un forno legna tavolo scorta legna e poi qua si mette dentro la linea e qui le piastre per cuocere tutto tutto il coperto fatto bene e là il rifugio bivacco up the vault